ciao a tutti qui possiamo vedere come scaricare windows 10 bisogna andare su scarica lo strumento che ci permetterà di scaricare tra viruletti il software che poi ci permetterà di scaricare windows 10 come potete osservare qui diciamo di qui selezioniamo lingua edizione e quant'altro qui lingua possiamo lasciare italiano mettere alternativamente inglese in questo caso mettiamo inglese United States qui vabbè possiamo confermare e qui ci dice se vogliamo scaricare il file iso o mettere il tutto in una chiavetta usb noi scegliamo il file iso qui selezioniamo la locazione in cui scaricarlo e a questo punto inizia lo scaricamento ovviamente richiederà un po' di tempo quindi questo si può fare appunto avendo a disposizione avendo come sistema operativo già windows 10 ma andiamo su google windows e scaricare windows 10 e senza alcun problema potremo scaricarlo